Si parla spessissimo di fare upgrade per la nostra strumentazione fotografica, ma ci sono due errori terribilmente insidiosi che dobbiamo assolutamente evitare quando stiamo pensando di comprare qualcosa per migliorare il nostro equipaggiamento. Ne parliamo nel corso di questo video. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia per lavoro da tanti anni. Ovviamente di fotocamera ne ho comprate tante in vita mia e ho anche fatto qualche piccolo errore. Nel corso di questo video vado a raccontarvi quelli che secondo me sono i due peggiori errori che possiamo fare quando andiamo a fare un upgrade per la nostra strumentazione. Sono due errori in particolare che mi è capitato di fare raramente, ma quando mi è capitato me ne sono accorto e vado a raccontarvelo in questo video in maniera tale che vada a beneficio di più persone possibile. Per questo motivo vi invito non solo a iscrivervi cliccando il bottone qui sotto e a mettere un bel like a questo video, ma anche a condividerlo con i vostri amici o colleghi fotografi in maniera tale che spargiamo un po' di consapevolezza. A mio modo di vedere il primo errore gravissimo che facciamo quando andiamo a fare un upgrade è quello di scegliere il modello immediatamente successivo a quello che abbiamo già. Perché questo lo considero un errore? Beh, è presto detto. Facciamo un esempio nel concreto e mi dispiace che ricado sempre sul mio brand di riferimento che è Canon, però appunto è il mio brand di riferimento. Io uso quelle macchine tutti i giorni per lavorare, quindi mi viene molto più facile farvi l'esempio su quella piuttosto che su un altro brand. Se io ho acquistato una Canon EOS R6, faccio l'upgrade e prendo la R6 Mark II, il problema qual è? Le due macchine sono belle entrambe, chiaramente nella seconda versione ci sono delle cose in più. Io vi devo dire che ho la prima versione e ovviamente sono un po' seccato che mi manchino le cose sulla seconda versione. Erano già uscite entrambe, quindi io potevo anche scegliere di prendere la seconda, ma ho scelto di prendere la prima per una serie di motivi di cui ho già parlato nel video in cui recensisco questa macchina, quindi andatevelo a recuperare se volete sapere quali sono i motivi. Il punto però qual è? Ovviamente ci sono delle cose sulla Mark II che mi piacciono, che vorrei. Non volevo pagare così tanto e quindi ho preso la prima versione, ma le cose che ci sono sulla Mark II chiaramente mi fanno gola e quindi a un certo momento io potrei pensare mi prendo la Mark II. Perché è un errore prendere la Mark II? Secondo me è un errore perché io ho pagato la cifra intera per prendermi la Mark I e poi pago la cifra intera per prendermi la Mark II. Mettendole insieme potevo prendermi la R5, cioè potevo prendermi il modello successivo. Che ben altra macchina! Capite bene che secondo me andare a prendere il modello immediatamente successivo è un grosso sbaglio. Primo perché con un po' di pianificazione in più mettendo insieme i soldi dei due acquisti ci prendevamo qualcosa di molto più alto e questo è il primo motivo. Il secondo motivo è che comunque per raggiungere il risultato finale, il risultato finale è ho una Mark II e ho pagato anche la Mark I, le ho comprate tutte e due, poi ok che magari una delle due la rivendo ma non la rivendo alla stessa cifra, la rivendo a meno e quindi comunque ho perso dei soldi e questo è un peccato. Questa è una cosa che io cerco di non fare, comprare il modello immediatamente successivo. Primo perché sto pagando una cifra totale con la quale potevo prendermi qualcosa di molto meglio e secondo perché appunto per quella cifra totale, quindi le sto pagando tutte e due ma quello che sto ottenendo non è il doppio. Quando io ho già la Mark I e vado a prendere la Mark II, quello che sto ottenendo sono quelle due robine in più, quindi sto ottenendo nella fattispecie 4 megapixel in più e cosa diavolo è che c'era un sistema di messa a fuoco che è un pelino più progredito, ma un pelino perché comunque partivamo da una cosa che era già ottima, le due macchine sono incredibilmente simili ma io per il privilegio di averle entrambe sto pagando prima 1.600 e poi 2.000 e quindi sto pagando 3.600 che è quello che costava una macchina molto più progredita, è un peccato e soprattutto partendo da una Mark I io sto spendendo altri 2.000 per avere quelle due robine in più, il resto della macchina è uguale a prima, questo secondo me è un peccato. Certo ci sono delle cose che possono essere risolutive sulla Mark II e quindi uno dice non me ne frega niente, ho i soldi, la prendo lo stesso e va bene ragazzi, la prendiamo lo stesso, però secondo me potevamo gestire meglio il nostro patrimonio, dico semplicemente questo perché siamo passati da una macchina di un certo tipo a una macchina pressoché identica con due cosine in più ma l'abbiamo pagata veramente tanto di più per avere il privilegio di fare quello step, quindi ci conveniva risparmiare e prendere subito la Mark II oppure risparmiare ancora di più e prendere direttamente il modello successivo. Comunque in generale passare da una macchina al modello immediatamente successivo secondo me non è una buona idea perché rischiamo di spendere come detto comunque tanti soldi per avere il modello successivo che magari non ci dà così tanto in più. Per vedere veramente il cambiamento secondo me dobbiamo passare da una fascia all'altra, quindi dobbiamo passare, se abbiamo una entry level non prendiamo un'altra entry level, se abbiamo un entry level prendiamo una media, se abbiamo una media non passiamo a una media più progredita, passiamo a una professionale. Se abbiamo una professionale non passiamo alla professionale Mark II ma passiamo a un'ammiraglia. Così sì che facciamo un upgrade dove vediamo veramente il valore dei nostri soldi applicato a quello che stiamo facendo. Se io ho una fotocamera di un certo tipo e passo alla fascia superiore l'upgrade lo vedo, il miglioramento lo vedo, è veramente tangibile. Ma se io semplicemente da una fascia prendo la macchina successiva della stessa fascia, l'upgrade sarà piccolissimo ma i miei soldi sono comunque tanti, quindi secondo me questo è un grosso errore che sarebbe meglio evitare. Con le dovute eccezioni perché se esce un upgrade che ci dà esattamente quello che vogliamo, esempio se uscisse una Canon EOS R10 Mark II con il video 4K in log, è quello. La R10, la prima versione non ce l'ha il log mentre la seconda sì, sto ipotizzando perché non esiste una Mark II, però se esistesse una Mark II che mi desse una cosa che mi serve, che mi cambia la vita, a quel punto dico vabbè a malincuore me la compro perché mi serve proprio quella roba lì e quindi devo fare quest'upgrade. In quel caso va bene, però fare l'upgrade tanto per sentirci coccolati che abbiamo preso una macchina migliore spesso e volentieri ci si ritorce contro. Perché abbiamo appunto speso tanti soldi e l'upgrade è così piccolo che spesso e volentieri neanche riusciamo a vederlo. Beh ma siamo al secondo punto, il secondo grave errore che facciamo quando facciamo un upgrade. Prima di dirvelo vi ricordo se non l'avete fatto precedentemente di iscrivervi al canale perché io lo so che poi ve lo dimenticate e adesso posso dirvi effettivamente qual è questo gravissimo errore. Voi dovete considerare che la strumentazione foto e video costa, ha un prezzo e non costa neanche poco, non ce la regalano mica. Io faccio due casistiche distinte. Siamo fotografi hobbisti amatori? Benissimo. Quando facciamo un upgrade per la nostra strumentazione? Quando possiamo permettercelo? Perché chiaramente essendo hobbisti non ci guadagniamo e quindi quando è che facciamo un upgrade? Quando ce lo possiamo permettere? Quando ci arrivano i soldi? Quando la zia Ernesta ci ha chiesto di sbarazzarci della Sheslong dello zio Vittorio che era lì in casa a occupare spazio da un sacco di tempo e noi abbiamo pensato bene di venderla e ci abbiamo ricavato un bel gruzzoletto, lì possiamo acquistare qualcosa per coccolarci della bella impresa portata a termine e possiamo comprarci qualcosa che ci faccia felici. In quel caso siamo amatori quindi compriamo quando possiamo, quando abbiamo l'occasione. Se invece siamo professionisti o semiprofessionisti, questo è molto importante ragazzi, quando è che compriamo qualcosa? La mia regola personale è, poi non sempre nella vita l'ho rispettata, però la mia regola personale è io compro qualcosa, faccio un upgrade, nel momento in cui con quello che ho, con la strumentazione che ho già, riesco a produrre la cifra necessaria a fare quell'upgrade. Quindi esempio, io voglio comprare una fotocamera più progredita che costa 2000 euro, la comprerò nel momento in cui con la strumentazione già in mio possesso io riesco a produrre un surplus annuale di almeno 2000 euro. Quello è il momento in cui comprare una macchina che costa 2000 euro. Questa è la mia regola personale. Questo significa ovviamente che se io comincio a lavorare con lo smartphone, perché si può anche cominciare a fare cose con lo smartphone, per esempio la fotografia di microstock si fa tranquillamente anche con lo smartphone. Se io con lo smartphone riesco a produrre un surplus annuale di 1000 euro, quindi magari facendo lavoretti, social media, cose varie, con uno smartphone mi pagano una cifra per cui tolte le mie spese, tolto tutto, a fine anno mi ritrovo con 1000 euro puliti in mano, posso comprare una fotocamera con un obiettivo per una spesa totale di 1000 euro. Una volta che l'ho fatto, se con quella strumentazione in più incremento i miei guadagni, l'anno dopo guadagno 2000 euro puliti, a quel punto posso comprarmi un qualcos'altro della cifra di 2000 euro. Questa è la mia regola personale. Poi c'è una piccola violazione a questa regola che si struttura così. Se io so che c'è un qualcosa che mi serve per migliorare il mio flusso di lavoro e magari è in offerta e magari se la zia Ernesta mi dice che vuole sbarazzarsi anche della bajur dello zio Vittorio e io che sono più pratico di lei riesco a piazzargliela su una piattaforma di usato, riesco a piazzare la bajur dello zio Vittorio e quindi ce ne sbarazziamo e mi faccio un bel gruzzoletto e puto a caso c'è una fotocamera in vendita che è scontata, c'è il cashback dell'estate, dell'inverno, vai a sapere. E quindi è un'occasione e ho il presentimento che non mi capiterà di nuovo e con quella macchina potrei andare a coprire un lungo periodo di lavoro con una macchina che mi durerà a lungo. Se mi capita l'occasione posso pensare di fare uno strappo alla regola. Quindi la compro adesso anche se io attualmente non produco quel surplus di denaro che mi servirebbe per acquistarla posso pensare di acquistarla lo stesso perché adesso sono in grado di acquistarla. Invece se spendo i soldi che ho guadagnato per la bajur dello zio Vittorio poi non sono magari più in grado di acquistarla e poi non è più in promozione quindi adesso mi conviene. Questo è uno strappo alla regola ma da fare con parsimonia perché se lo facciamo tutti i giorni ah cavolo ho trovato 10 euro per te, compriamo una roba. Ah cavolo il mio capo mi ha dato il bonus di produttività, mi ha dato 200 euro in più, compriamo una fotocamera. Cioè capite che se lo facciamo sempre andiamo in rovina. Quindi lo dobbiamo fare in occasioni selezionate. Quando ci capita proprio un'occasione che diciamo questa non posso lasciarmela sfuggire perché non mi ricapiterà mai più, allora lo facciamo. Esempio, quando io ho acquistato le f85 mm lo stavo cercando, stavo cercando l'1.8, invece ho trovato l'1.4. L'1.4 costava troppo, io non volevo spendere così tanto, costava 1.6, era un po' seccante. Mentre l'1.8 costava 800 euro, se ricordo bene. L'avrei preso molto volentieri. Non l'ho trovato, non ho trovato l'1.8 ma invece ho trovato l'1.4 e era in offerta, costava 1.2 o una roba del genere. Cioè comunque costava 400 euro meno di quello che era di listino. Quella era un'occasione. Non stavo trovando altre ottiche, non stavo facendo fatica a trovare quello che mi serviva. Ho trovato un negozio che ce l'aveva e costava pure di meno. Quella era un'occasione. Lì ho speso un po' di più, ho fatto più fatica per portarmi a casa una cosa che però funziona meglio. E a quel punto sei contento di quello che è successo, di come sono andate le cose. Però ci deve essere sempre dietro un ragionamento perché sennò finisce che compriamo cose a caso. Questi sono errori da evitare quando stiamo cercando di fare un upgrade per la nostra strumentazione. Io spero che questi video vadano a beneficio di tutti che vi aiutino a ragionare e a non fare errori perché poi siamo sempre contenti quando ci compriamo qualcosa, quando ci regaliamo un upgrade. Questo è ovvio. Siamo sempre contenti. Però possiamo farlo a caso oppure possiamo farlo con ragionamento e comprando le cose giuste. E per questo motivo spero di esservi stato d'aiuto. Signori, io vi chiedo a questo punto, fatemi sapere qui sotto nei commenti che upgrade avete appena fatto o che upgrade avete in programma di fare. Parliamone come sempre nei commenti e io vi risponderò anche con shorts verticali per cui vi consiglio di iscrivervi così non ve li perdete. È stato come sempre un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video.